ma perchè non canti più? questo silenzio? va bene, però non potevo parlare, se non andrò a parlare come andiamo con il lievo Tudor? non potevo parlare abbastanza bene mazza aluni, gruppo A nel momento di ricontrollo dei punti eseguiti andiamo ora dal gruppo B guardiamo cosa stanno facendo strumentista del momento, Mario Tudor c'è di Leonora una parte del disegno Luca Pinelli a tenere il prisma ma com'andiamo? quanti punti avete preso da ieri? 370 giorni, città della situazione che ci verrà a trovare oggi qui ci verrà a trovare oggi? qui ci verrà a trovare oggi? Grazie a tutti. Grazie a tutti.